Povertà, cento anni, mille anni, che cos'è mai cambiato in mille anni qui nel nord del Mozambico? Saranno arrivati un paio di biciclette, qualche secchio di plastica e poi? L'elettricità non c'è, i trasporti pubblici sono inesistenti, le scuole sono una rarità, al pari dei medici manca tutto, abbondano soltanto la miseria e le sofferenze. Africa ignorante, canta il vecchio, perché vai in guerra? Il Mozambico è un unico paese, perché deve essere tanto martoriato? La guerra scoppia, passa e tuttavia dura, mille anni di solitudine, e quando arriva qualche straniero è raro che sia un bene, conquista, povertà, malattia, destino, Dio ha dato e Dio ha preso. Fatima Assine, 43 anni, consulente a Elvetas per le comunità rurali, combattente per l'acqua potabile e per far capire che le cose non devono rimanere come sono sempre state. Non è sempre facile, in molti paesi vicino al fiume si sente dire che l'acqua naturale è già lì, a portata di mano. La gente non capisce che quell'acqua è insalubre, ci vuole tempo per sensibilizzarla. Sensibilizzare la comunità, accettare una determinata cosa, è difficile. Rosa Giulio non si lamenta, mezz'ora per andare a prendere l'acqua, mezz'ora per tornare, è da sempre così, ogni giorno da 3 a 5 volte, ogni giorno ore di lavoro solo per l'acqua. Ho avuto 8 bambini, 4 sono morti, uno è nato morto, uno aveva il corpo tutto gonfio, un altro ha preso il morbillo e uno è morto di diarrea. Questo è mio figlio maggiore e questa è mia figlia, qui ci sono i più piccoli, lei è mia sorella. E lui è mio marito. Questo è il posto dove Rosa Giulio attinge l'acqua, un buco fangoso, una brodaglia torbida, senza protezione alcuna contro la sporcizia e gli animali. Rosa non sa quanti bambini abbiano già perso la vita a causa di quest'acqua, sono morti e basta. E' sempre stato così a Pavala, nel nord del Mozambico, ben al di sotto di uno standard minimo per noi accettabile. 956 abitanti, nessun medico, niente corrente, niente scuola per i 200 bambini in età scolastica. Il più vicino negozio è a due ore di marcia. Del resto a Pavala tutti vanno a piedi, tranne un paio di ricchi che hanno una bicicletta. Oggi è una giornata speciale per Pavala. Fatima, la signora dell'acqua di Elvetas, è qui, con una pompa nuova di zecca. Non serve ancora per pompare, ma per imparare. Ci vuole tempo, da quando il villaggio si rivolge al governo o a Elvetas, chiedendo una pompa o una trivellazione, a quando l'acqua pulita scorre nelle tubazioni. In passato, le organizzazioni umanitarie installavano le pompe dove pensavano ce ne fosse bisogno. Risultato? Solo la metà di queste pompe è ancora funzionante. Le altre arrugginiscono perché mancano i pezzi di ricambio e nessuno è responsabile della manutenzione. Rosa Giulio raccoglie la manioca. I tuberi raschiati, essiccati e macinati forniscono la farina di manioca, l'alimento principale di queste contrade. Oltre alla manioca, si coltiva orzo, grano turco, fagioli, sesamo, arachidi e cotone. Se il raccolto è buono, si può vendere qualche eccedenza ai mercanti di passaggio, soprattutto cotone, sesamo e fagioli. Ma il più delle volte il raccolto basta appena a coprire il proprio fabbisogno. Di soldi ne circolano pochi. Il guadagno medio giornaliero in Mozambico non arriva a un dollaro e a Pavala e meno ancora. Questa povertà penalizza gravemente anche le possibilità di formazione. La scuola è elementare gratuita, ma manca di tutto. È spesso lontana, irraggiungibile per chi non ha una bicicletta. È un bene che le cose cambino. Andare a cercare l'acqua è un grande spreco di tempo e ne rimane troppo poco per coltivare i campi. Se avessimo un pozzo qui al villaggio, potrei avere velocemente l'acqua che mi serve, anche al mattino o alla sera. Nel locale riunioni di Pavala, dieci persone, tra le quali Rosa Giulio, ascoltano Fatima. Sono i componenti della squadra che sarà responsabile della manutenzione e delle riparazioni della nuova pompa. Il villaggio deve anche fornire un modesto contributo finanziario. Solo a queste condizioni, il VETAS approva un progetto acqua in collaborazione con le autorità statali preposte. Fatima è formatrice, animatrice, promotrice e coscienza di tutti i comitati per l'acqua che sorgono in un'area di 4.000 km quadrati. Una donna davanti alla quale anche i capi villaggio si trasformano in allievi. Ovvio che mi rispettino. Non c'entra il fatto che io sia donna. Non è uguale in tutti i villaggi, ma lavoriamo in sintonia con la politica dell'acqua decisa dallo Stato. Se un villaggio si rivolge a noi, vuol dire che è interessato a migliorare le cose e allora la popolazione deve ascoltarmi. Fatima, la signora dell'acqua, in viaggio verso Matichite. Matichite non è quel che si dice una città pulzante, ma con i suoi 5.000 abitanti è 5 volte più grande di Pavala. Qui c'è una scuola elementare frequentata da 500 allievi e c'è anche l'acqua. La vicepresidente del comitato locale per l'acqua è Filomena Suffo, 38 anni, quattro figli e tutti sani, come sottolinea la mamma. L'acqua giunge da due pozzi, raggiungibili da tutte le case in pochi minuti. Matichite ha seguito la stessa trafila di Pavala, formazione di un comitato di sviluppo, richiesta a Elvetas, creazione di un comitato per l'acqua, per la manutenzione, istruzione. I primi passi sono stati compiuti un paio di anni fa e ora si raccolgono i frutti di quell'impegno. È buona? Sì. Avevamo acqua anche prima, ma non c'era nessuna protezione. La bevevamo perché non potevamo farne a meno. Che cosa è giusto e che cosa è sbagliato su questi disegni? Domanda Fatima al comitato igiene. Di sbagliato c'è naturalmente il fatto che facciate i bisogni dove capita, magari vicino al pozzo, invece che nella latrina. C'è il pericolo che i germi vadano a finire nell'acqua e da lì in bocca. Se succede vi ammalate, è chiaro? Non c'è il pericolo, non c'è il pericolo, non c'è il pericolo. Non c'è il pericolo, non c'è il pericolo. Fatima non è per nulla contenta della visita di controllo al secondo pozzo di Matichite. La conseguenza è una ramanzina per mettere le cose in chiaro. Ecco, non potete fare il bucato sullo spiazzo in cemento, perché il fondo si sporca e si rompe. Dovete costruire un lavatoio. In altri villaggi la gente l'ha ricevuto. Sì, ma potete anche costruirvelo da soli. Lì dietro avete tutte le pietre che vi servono. Datevi da fare. Lo spiazzo attorno al pozzo deve rimanere pulito e non presentare crepe. È una questione di autoresponsabilità. Dio ha dato e Dio ha preso. È così da millenni. Ma la vicepresidente ha capito l'antifona. Dal niente non nasce niente. Il comitato per l'acqua deve fare in modo che la pompa funzioni e che tutto sia pulito. Se qualcosa si rompe, occorre trovarne la causa e tocca al villaggio procurarsi pezzi di ricambio. Quello dei pezzi di ricambio è un problema tosto. Il territorio da coprire è immenso, richiesta minima. Chi ha mai voglia di accollarsi l'onere di tenere un magazzino rifornitissimo e di conseguenza costoso? Nella cittadina di Chiure, una signora di buona volontà, tiene un paio di articoli in deposito. Un po' di liquido per la pulizia delle tubazioni in PVC, un po' di colla, qualche pezzo in metallo e un desolante vuoto negli scaffali. Nel capoluogo provinciale di Pemba, con l'aiuto di Elvetas, una piccola ufficina si è attrezzata per riparare le pompe guaste e ha incominciato a costruirne di nuove, a costi decisamente inferiori di quelle importate dall'India. Questa pompa viene da un villaggio, vedi? Qui si rompe subito e qui sopra anche. Con le parti in metallo non incontriamo grandi problemi perché questo materiale si può comprare anche qui. Con quelle di plastica invece le cose si complicano in quanto dobbiamo importarle. Fatima Assine, la signora dell'acqua di Elvetas. Sorvegliante di un paio di dozzine di pozzi nel distretto di Chiure, 4.000 km quadrati, un'area quasi una volta e mezzo il Ticino. Al momento è anche consulente di nove altri villaggi che aspettano un pozzo. Fatima, due occhi e due orecchie, sempre allerta. Non sentite come stride questa pompa? Bisogna procurarsi un pezzo di ricambio prima che si rompa tutto. E' un pezzo che non costa molto, potete acquistarlo senza difficoltà. Qui invece non va bene che l'acqua si disperda e che le bestie possano entrarci. Quest'acqua ci serve per fabbricare mattoni, non vogliamo usare quella buona per queste cose. Avete ragione a voler risparmiare l'acqua, ma allora dovete scavare un bacino e coprirlo, come fate con una latrina. Come adesso non va bene. Non mi stanco di ripetere le stesse cose. È il mio dovere. Devo parlare con la gente, sensibilizzarla e convincerla. Non posso mollare. Fatima Assine, la signora dell'acqua. Le cose cambiano, adagio, ma irreversibilmente. L'immobilismo appartiene al passato. Il nostro paese di ricambio è un 來